Il Gaeta fallisce ancora l'appuntamento interno con la vittoria e si fa bloccare sul pareggio per 1-1 dall'Uni Pomezia al termine di una gara certamente priva di grossi spunti di interesse. Gaeta che attaccava per tutto l'arco del primo tempo ma senza arrivare a risultati concreti, Pomezia che si difendeva e provava a ripartire in qualche occasione che metteva anche i brividi alla squadra bianco-rossa. Si arrivava così alla metà della ripresa quando su un fallo, un presunto fallo contestatissimo dagli ospiti, riusciva il Gaeta a guadagnarsi un calcio di rigore che Famiano metteva in rete spiazzando il portiere romano e colocando il pallone. Alla sua destra sembrava che ormai il Gaeta non potesse avere più difficoltà e invece dopo soli 10 minuti su un'azione da calcio d'angolo il pareggio dell'Uni Pomezia che rimetteva le cose sul binario dell'equilibrio. E tra l'altro negli ultimi 10 minuti i romani attaccavano incessantemente per cercare quei tre punti che avrebbero inguaiato il Gaeta e avrebbero riportato l'Uni Pomezia a un passo dalla zona play-out. Certo con questo pareggio le cose si complicano perché l'Arce è andato a pareggiare a Cassino, Litri ha vinto a Morolo, insomma hanno fatto tutte quante punti le squadre che si trovano davanti al Gaeta, mentre invece quelle che si trovano dietro, per fortuna tra virgolette dei bianco-rossi e per sfortuna loro, sono incappate in una sconfitta. Certo che il Gaeta deve rivedere gran parte del proprio assetto, soprattutto offensivo, la squadra non riesce a pungere, crea gioco ma non riesce assolutamente a finalizzare e anche ieri c'è voluto soltanto un calcio piazzato per sbloccare il risultato. Gaeta che deve necessariamente migliorare perché la zona salvezza è distante appena due punti ma c'è bisogno di un qualcosina in più. È tutto per la partita del campionato di eccellenza a Gaeta, Gaeta, Unipomezia, 1 a 1. Un saluto da parte di Rasmo Lombardi.